Perché? Perché questa venere si sposta, va nel segno del leone, quindi si toglie da una posizione piuttosto scomoda per quanto vi riguarda. Ha creato degli attriti, ha creato dei dubbi all'interno della coppia, ha impedito a molti di voi anche di esprimersi al top a livello sentimentale. E quindi sono mancate le occasioni e quindi anche quegli appuntamenti che avevate dato o che vi erano stati dati, magari non hanno sortito gli effetti sperati, ma adesso le cose sono destinate a cambiare. Venere nel segno del leone diventa molto sensuale. Attenzione però a questa luna in questa giornata, è una luna complicata soprattutto per il lavoro. I problemi che state riscontrando in questo momento a livello professionale riguardano soprattutto l'intesa con le persone che vi circondano, anche con i vostri superiori. Andiamo al segno dell'acquario.